L'attività rientra nell'ambito della prevenzione del rischio idrogeologico assicurata attraverso un'apposita convenzione tra l'amministrazione comunale di Erice e l'associazione di volontariato il soccorso Ampas. Il monitoraggio del territorio è portato avanti dai volontari ericini che ormai da circa un anno hanno deciso di impegnarsi nel controllo del loro paese e dei vari versanti della montagna anche durante l'estate per quel che riguarda la prevenzione degli incendi. Siamo nati da un'esigenza, da un bisogno che era quello di essere da soli, il bisogno di avere qualcuno che pensasse a noi, di avere qualcuno che pensasse a questa città, a questo paese soprattutto d'inverno. Quando qui d'inverno ovviamente non c'è nessuno e da questa esigenza noi ne abbiamo fatto virtù, quindi di necessità virtù. Siamo nati da questo bisogno e grazie al sostegno dell'associazione, grazie alla formazione che in questi mesi, in queste settimane abbiamo svolto insieme ai formatori del soccorso. Adesso ci ritroviamo nei panni dei volontari, volontari che ogni notte girano per le strade di Erice, che cercano di rassicurare i cittadini in condizioni di difficoltà e che hanno anche in qualche modo cercato di aiutare durante periodi invernali, con la neve, con il gelo, con la pioggia, per qualunque tipo di problema. E ormai la cosa bella, la cosa fondamentale è quella che noi ci sentiamo un punto di riferimento importante per molti ericini, molti ericini che sono da soli e che non hanno a chi chiedere, non hanno con chi parlare, non hanno a chi chiedere soprattutto aiuto. Il distaccamento di Erice del soccorso, che ha anche una propria sede nell'ex centro sociale di Vea Polonis, conta circa 30 volontari equipaggiati per interventi di primo soccorso, che svolgono il servizio in uno fuoristrada pick-up della protezione civile. Naturalmente è stata avviata anche un'intensa attività di formazione in aula, coordinata dalla responsabile del soccorso Pino Aceto. Le nostre attività di volontariato continuano, nonostante il periodo invernale, ad Erice, con un'attività di vigilanza, giusta convenzione con il Comune di Erice, che riguarda il rischio del dissesto idrogeologico. Abbiamo iniziato ad Erice con l'apertura di questo distaccamento, con l'attività di vigilanza antincendio boschivo la scorsa estate e questa convenzione è diventata un'altra cosa per quello che riguarda un altro tipo di rischio, che è quello dell'eventuale di dissesto idrogeologico. I nostri volontari svolgono attività specialmente la notte, normalmente dalle 11 fino a circa le 6 della mattina, girando con un modulo 4x4 per le vie della montagna e per le vie della cittadina ericina, appunto per questo controllo del territorio.